meeting melinda cless si ritorna alle gare dopo le vacanze estive cominciamo con i nostri atleti martina talini 100 metri è in corsia 1 di nuovo alle gare anche martina dopo le vacanze partita adesso è un po sulle gambe è un po sulle gambe è un po fermina oggi la marti ma del resto bisogna lavorarci sopra il tempo potrebbe essere attorno ai 13 secondi secondo me